Qual è l'eredità del Circo Massimo? Un popolo che si è alzato in piedi a difendere la famiglia, difendere la famiglia non come fosse una struttura ormai obsoleta, una struttura del passato, ma la famiglia come unico luogo di formazione dell'essere umano. Ciascuno di noi nasce da una mamma e un papà, ha diritto di crescere con una mamma e un papà, che aiutano il bambino a conoscere la realtà, a rapportarsi e a conoscere la relazione, e soprattutto a imparare l'amore. Tutte le società post-moderne che hanno rinunciato alla famiglia come modello sociale si trovano oggi alle prese con problemi enormi. L'Italia, contrariamente a quello che molti dicono, non è affatto un fanale di coda, ma anzi in questo momento è un faro, una luce che brilla, proprio perché il tessuto sociale familiare ancora ha tenuto. La legge sulle unioni civili che è stata approvata al Senato, invece, mira a distruggere questo modello sociale, equiparandolo ad altri modelli che famiglia non sono. L'invito che vogliamo fare è questo. Abbiamo ancora una possibilità, questa legge non è ancora stata approvata in via definitiva, tutti voi conoscete un deputato, un senatore, chiamatelo, scrivetegli, mandateli una mail e comunicate il vostro dissenso, non per ragioni politiche, non ci interessa la politica dei partiti, ci interessano le ragioni antropologiche. Scrivete, dite che non siete d'accordo e dite anche che vi aspettate un voto contrario alla Camera dei Deputati su questa legge. Giorgio Ponte, romanziere, una persona con tendenze omosessuali, è stato uno dei protagonisti del Family Day. Sì, ho deciso di partecipare al Family Day in quanto in qualche modo la mia presenza voleva essere il segno di tutte le persone che hanno tendenze omosessuali, che non si ritrovano a condividere la legge sull'unione civile, non si ritrovano a condividere questo modello antropologico che divide la gente in base al suo desiderio sessuale e soprattutto sono consapevoli del fatto che i figli nascono e quindi hanno bisogno forse per il loro bene di crescere in una famiglia che ha una figura maschile e una figura femminile di riferimento. Una legge sull'unione civili che di fatti distingue le persone in base all'orientamento sessuale, secondo me e secondo tante altre persone, anche non necessariamente cattoliche, è dannosa prima di tutto per le persone omosessuali proprio perché le categorizza, le identifica e le distanzia rispetto agli altri. Io non sono più un uomo e quindi come tutti gli altri uomini trattato allo stesso modo avanti alla legge, ma ho bisogno di diritti in più che mi categorizzano in quanto con un desiderio omosessuale.